Due punti, da libro a film. Antonio Pellegrini, che è un attore e che sarà l'interprete probabilmente principale di questa opera prima di Francesco Proia, adesso ci dirà tutto. Sì, no, non sarò l'attore principale perché abbiamo un cast di tutto rispetto. Faccio parte anche del cast e interpreterò un personaggio, ma non il principale. Vabbè, tu sei sempre umile. Quindi, insomma, anche le fasce sociali. Voglio dire, uno che fa un lavoro comunque si appassiona perché sente dei termini appropriati, non c'è una divagazione nell'italiano forbitissimo. È proprio aperto a tutte le persone che vogliano saper leggere, che vogliano imparare anche la sintassi da qualcosa di non troppo complicato. Cioè appassiona, istruisce senza dover divagare e dilagare in una lingua italiana troppo d'elite. È un libro ben fatto, è per tutti ed è per i più piccoli, ma anche per gli ultranovantenni, da quello che so. È veramente un'opera d'arte. Insomma, ecco, bravo Francesco Proia, complimenti. Esatto. Il libro è un romanzo, nasce come un romanzo, ma è strutturato su verità, su storia e cultura della marcia. Ha notato lo spessore culturale, comunicativo di questo progetto. Molte persone hanno bisogno di capire meglio di cosa stiamo parlando e quindi stiamo realizzando questo promo che ha già dei presupposti veramente professionali. 31 ottobre e 4 novembre 2013, parliamo del promo, si colloca in queste date? Sì, verosimilmente abbiamo già un piano di lavoro, come si dice in termine cinematografico, dei piani di lavoro che non possiamo anticipare. Non posso anticipare tutto, ma sicuramente sarà veramente interessante seguire questo progetto e lo sviluppo stesso di questo progetto. Qualche nome, qualche attore? Abbiamo sicuramente i protagonisti. Chi ha letto già il romanzo conosce Alessandro, il protagonista del libro, che verrà interpretato da Luca Vallone, che è un ragazzo, un emergente, un attore italiano emergente. È bello e bravo come te? Allora, io quando l'ho visto la prima volta, è molto più bello di me. È difficile. Io quando l'ho visto la prima volta in fotografia, quando ce l'hanno presentato nel team Polvere di Lago, credevo di aver visto Scamarcio. Stessi occhi, stessi lineamenti, stessi capelli. Porca miseria si può dire? Non è pubblicità, si può dire. È veramente un bel ragazzo, oltre ad essere molto bravo, Luca Vallone. La coprotagonista femminile sarà Sara Carallo, un'attrettanta bellissima ragazza. Sono invidiosa, comunque va bene, complimenti anche a lei. Poi avremo Mauro Marino, un attore affermato italiano che rappresenterà, interpreterà il professor Grandi, un altro cardine di questo rapporto. Scusami Antonio, se ti interrompo, non sono proprio manierata, spesso interrompo. Perdonami, ma io volevo chiederti se è un'omonimia o comunque se Mauro Marino è anche colui che viene dalla radio, da Radio Dimensione Suono. È la stessa persona, è uno speaker anche di partenza? Io personalmente non te lo so dire. Mi coglio in fallo in questo momento. Fammi questa indagine, perché vorrei sapere se è proprio il mio Mauro Marino che mi ha insegnato anche a parlare alla radio. Insomma, è stato anche un mio maestro di sintesi, sintassi e soprattutto di dialogica per quanto attiene ciò che è radio e televisione. Provederò, ti farò sapere. Grazie. Allora, procedendo con gli attori, scusami. Sì, abbiamo, ecco, ripeto, Luca Vallone, Sara Carallo, Mauro Marino. Poi abbiamo anche un rappresentante locale, il maestro Massimo Di Ponzio, che è un soggetto singolare, maestro di snowboard di Ovindoli. Quindi rappresenterà un personaggio che non vi anticipo, molto molto caratteristico. E poi Massimo Di Lello e poi Antonio Pellegrini, con la regia di Linda Parente, coadiuvata da Marco Di Gennaro. Ok. Senti, mettiamoci in mezzo anche Radio Montevelino e Telesirio, visto che ci siamo. Assolutamente, assolutamente. L'Hotel dei Marsi che c'entra? Salutiamo gli amici dell'Hotel dei Marsi. Dobbiamo ringraziare, se questo promo si realizzerà e verrà realizzato, chi si è reso disponibile. Si è reso disponibile con finanziamenti, con disponibilità concrete. Quindi parliamo di alloggi. L'Hotel dei Marsi ospiterà gli ospiti, che verranno ovviamente da fuori. Quindi sarà punto di riferimento. Ringraziamo tutti i comuni, quasi tutti i comuni, che si sono resi disponibili per allestire il set, transennare il set. Verrà quindi posta a una vera e propria stazione di ripresa. E invitiamo quindi tutti i cittadini dei vari paesi della Marsica a presentarsi, a vedere, a seguire le riprese. Perché per chi non ha mai assistito ad un set di riprese cinematografiche, può essere un'occasione. Vengo a fare la comparsa, posso? Senza dover necessariamente disturbare, ma si può assistere ad una ripresa in esterna, come si dice. Se mi riprendi vengo, io sono molto vanitosa, scherzo. Questo è un faro comunque che viene puntato sulla nostra terra. È un'occasione per celebrare l'Abruzzo, ma soprattutto la Marsica. Questo fatto dell'allestimento del set, del poter girare questo film. Abbiamo già avuto le autorizzazioni per alcuni comuni, ci aspettiamo anche partecipazione da quei comuni che ancora non sono stati presi in causa, che non sono stati ancora considerati, quindi sia da un punto di vista di coinvolgimento anche economico, finanziario, perché si sa che per la realizzazione di questi lavori c'è bisogno di un aiuto. Un aiuto consistente. Il progetto darà lustro e luce alla nostra terra, quindi c'è un ritorno evidente da un punto di vista anche nazionale. Quindi benvenga, nonostante, voglio dire, accompagnando anche le altre situazioni, il fatto che venga girato un film ed è già una cosa di notevole importanza nell'ambito nazionale, benvenga pure perché poi è foriero di turismo questo fatto. Assolutamente, quello è l'obiettivo che Francesco aveva sin dall'inizio, dalla stesura del suo libro, quello di poter mettere nero su bianco la vera storia sommersa, a volte sconosciuta, delle nostre terre, di Alba Fucens e di tutti i reperti, la storia del fucino, del prosciugamento, che pochi sanno o sanno poco. Ecco, questo è vero. E Francesco ha una gran voglia di dare una forte spinta alla nostra terra e soprattutto la bontà che mi piace di questa capacissima persona, di questo romanziere, peraltro bravissimo, anzi non peraltro, soprattutto, mettiamo i termini al punto e al posto giusto, ma appunto c'è questa voglia di amare, concretizzando con dei fatti, questa nostra terra. Insomma, lui crea il libro, poi vuole il film, perché? Perché la Marsica va riscoperta, spinta e amata portando anche dei soldi, ridando un po', che ne so, una botta forte a quello che è un mercato che se è assopito vuoi pure la crisi. Certo, ti faccio notare che Francesco scrive il libro, il progetto, tutto ciò che si è sviluppato è stato quasi inevitabile, quindi non è stata una sua volontà, quella del film, ma quasi un'esigenza scenografica derivante dal libro stesso, quindi si è sviluppato tutto in maniera molto naturale. Io volevo invitare i radioascoltatori e tutti coloro che si sono incuriositi a seguire il progetto. C'è un sito www.polveredilago.it, dove ci sono dei piccoli documentari film, dove Francesco ha sintetizzato alcuni cegni, alcuni passi del libro, con la mia voce narrante. Che bello sentire la tua voce, scusa. Grazie. C'è la pagina Facebook, come non poteva non esserci la pagina Facebook. Ripeti Lampa, fammi risentire la tua voce leggendo il nome del sito. www.polveredilago.it Fantastico, veramente. Allora io adesso in separata sede, continuo a intervistarlo perché mi faccio accarezzare dalle note musicali quasi della sua bella voce, abbiamo sentito l'attore Antonio Pellegrini, un'altra grande eccellenza del territorio marsicano, che porta in alto quello che è l'Abruzzo. Grazie a lui, grazie a Polvere di Lago e quindi a Francesco Proia. Lo ascolteremo spesso perché io questo signore lo voglio come ospite fisso all'interno del mio programma di venerdì dalle 11 alle 12.30 su Radio Montevellino. A presto con il film, ciao. Grazie Etta. Buona giornata Antonio. Ciao, grazie a te.